La sanità pubblica pugliese è sempre più a rischio a lanciare il nuovo allarme e l'intersindacale medici della Puglia che evidenziano ancora una volta le condizioni emergenziali della sanità che necessita di soluzioni immediate per colmare per esempio la forte carenza di medici o risolvere il grave disagio dei pronto soccorso e del servizio di emergenza e urgenza. L'intersindacale dunque punta i piedi e chiede soluzioni immediate non solo soldi dicono si chiedono soldi ai medici per i pazienti deceduti e per i cittadini trasferiti si legge appunto nella nota stampa dell'intersindacale e come sempre i medici pagheranno mentre per chi non ha adempiuto al proprio lavoro di tenere in ordine le liste dei pazienti fuori controllo da oltre dieci anni nessuna conseguenza. Questa volta però l'intersindacale medici si spenderà per far valere il principio che chi sbaglia paga anche se avremo contro l'apparato burocratico amministrativo. Si aggiunga che le ASL hanno inviato una comunicazione ai medici di famiglia per far pagare loro il costo dei farmaci prescritti ai cittadini malati per una insana applicazione del controllo della spesa farmaceutica. Tutto questo, dicono dall'intersindacale medici, ci dà la percezione di un'amministrazione impostata più in chiave ragioneristica a cui non sta a cuore la soluzione dei problemi che in definitiva hanno una ripercussione sul lavoro dei medici e sulla salute dei cittadini. Chiediamo di essere da tecnici sentiti rispetto alle novità del PNRR come le case della comunità che presentano criticità sia nel merito che sul piano organizzativo amministrativo tali da rappresentare una soluzione peggiore all'esistente che invece si vuole correggere. Al centro poi la richiesta dell'intersindacale medici e ai candidati in questa campagna elettorale per il Parlamento di affrontare concretamente la questione sanità con soluzioni attuabili a partire dai contratti e dai compensi dei sanitari. L'intersindacale medici chiede dunque un confronto sindacale immediato per risolvere in maniera strutturale la questione della carenza dei medici ospedalieri e quelli territoriali perché concludono ormai non c'è più tempo perché ora servono risposte per evitare il crollo drammatico della sanità pubblica.